Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta caprese al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di mandorle, uova, tuorli e albumi separati, zucchero, fecola di patate, burro fuso, aroma di limone, pasta di limone, sale, lievito per dolci e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere gli albumi che dovranno essere a temperatura ambiente e il sale. E azionare il bimbi per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Mettere da parte gli albumi in una ciotola capiente e rimuovere la farfalla. senza lavare il boccale. Mettiamo i tuorli, lo zucchero e azioniamo il bimbi con il cestello al posto del misurino per 5 minuti a velocità 5 minuti. Aggiungere la fecola, il lievito, la vanillina, l'aroma di limone, la pasta di limone e il burro fuso. azionare il bimbi per un minuto a velocità 5 minuti. Aggiungere la farina di mandorle e azionare il bimbi per 50 secondi. a velocità 3. Trasferire il composto nella ciotola con gli albumi. amalgamare delicatamente. Trasferire il composto in uno stampo da 26-28 cm di diametro con il fondo rivestito con carta da forno e con i laterali ben imburrati. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. torta caprese al limone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!